Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie, buona giornata a tutti. Grazie per avermi invitata. Grazie per aver accettato l'invito. Allora, dicevo, il numero per i vostri messaggi da sfruttare nei prossimi 35-40 minuti è il 342-14-26902. Allora, iniziamo dal caso Gianrusso, facciamo così, perché due dei tanti messaggi che sono arrivati per lei, onorevole De Micheli, scrivono questo. Allora, il primo è di Emiliano Di Luzio. Apro Repubblica e leggo di Gianrusso, ex Movimento 5 Stelle che entra nel PD per sostenere Bonaccini. Vi prego, ditemi che si tratta di un ennesimo brutto scherzo. E poi Enrica Pascuzzi, allibita e mortificata per il caso Gianrusso. Ma questo partito è impazzito. Possibile che si sia perso anche il buonsenso comune. Lei questa mattina commentando questa notizia ha detto Noi non possiamo diventare il partito delle porte girevoli, cioè? Beh, questa stagione, che è una stagione difficile, è stata caratterizzata da un continuo richiamo al, diciamo così, al fatto che devono entrare persone nuove dentro il nostro partito. Io lo condivido, nel senso che abbiamo pochi iscritti, abbiamo purtroppo più che dimezzato gli elettori in 15 anni e quindi è evidente che ci dobbiamo aprire. Però io penso che quando si decide di entrare in un partito si debba fare un percorso non possa semplicemente essere l'atto formale dell'acquisto di una tessera. Se noi immaginiamo che chi entra ora dopo che ha detto le cose che ha detto Gianrusso su di noi ha gli stessi diritti di un militante che per 15 anni ha fatto tutto quello che c'è da fare per il Partito Democratico i volantinaggi, la sveglia presto alla mattina, il sostegno ai sindaci, sia quelli che ti piacevano o non ti piacevano il sostegno ai parlamentari anche quando non li hai decisi perché ormai gli iscritti purtroppo non decidono più niente nella nostra comunità è ovvio che la reazione è una reazione rabbiosa. Io ero contraria al processo del congresso fatto così, sono stata l'unica dei candidati che ha avuto il coraggio di dirlo perché lo pensavano tutti, tutti lo pensavano, ma solo io ho alzato la mano insieme a pochi altri un manipolo di coraggiosi indirezioni per dire che fatta così non andava bene. Poi io non mi illudo che il Partito Democratico possa tenersi chiuso nelle strette stanze dei propri iscritti che peraltro sono un decimo di quando l'abbiamo fondato. Non sto dicendo questo. Io dico che lo status di iscritto è una cosa importante al punto che il nuovo modello organizzativo che propongo per il PD è molto concentrato sul ruolo degli iscritti che diventano quelli che decidono tutto che diventano quelli che fanno il proselitismo per 15 ore al mese, che trasformano il Partito Democratico nel partito della prossimità. Insomma io ce l'ho molto concentrato, sono la sindacalista degli iscritti qualcuno credo che se lo ricorderà, l'ho detto di recente, ma penso che questo status sia come iscritto avente diritto al voto, che come candidatura abbia bisogno di un percorso, di conoscenza della nostra comunità. Siamo una comunità anche che ha le sue complicazioni, ha la sua storia. Guarda adesso ci scandalizziamo per Gianrusso, ma nei territori stanno entrando persone che magari anche fino a sei mesi fa, sette mesi fa hanno fatto delle liste contro il Partito Democratico che magari ci aveva il candidato sindaco piuttosto che quasi questo tipo. Allora, ripeto, io non sono contro l'apertura, io sono d'accordo sull'apertura, penso che ci siano dei percorsi da fare, penso che non possiamo diventare il partito delle porte girevoli perché le porte girevoli hanno questo effetto. Entri in un minuto, esci in un minuto, entri in un minuto, esci in un minuto. Ma noi siamo il Partito Democratico, siamo il partito... Insomma, io vorrei che fossimo, io penso che siamo il partito più serio dell'arco istituzionale nelle nostre regole interne, nei nostri rapporti. È tutto molto chiaro. Allora, io ne approfitto per salutare anche tutti e tutte coloro che ci stanno seguendo sulla pagina Facebook del Partito Democratico. Vi prego, se avete domande, inviatele al nostro numero WhatsApp 342 14 26 902. Non credo che riusciremo a dare spazio a tutti perché sono... Vabbè, vorrei dire che tornerò. Eh, assolutamente sì. Allora, Angelo Zotti, scrive da Salerno, onorevole De Micheli, in caso di disaccordo con la maggioranza del partito si rimane a dare il proprio contributo come minoranza o si va via a formare un nuovo partito? E con questa gliene giro un'altra, il o la nuova segretaria, segretario del PD. Avrai coraggio di parlare di equità fiscale e di tassazione sui patrimoni? La cosiddetta patrimoniale, Ernestina Galimberti, circolo PD Cernusco sul Naviglio, Milano. Angelo, io sono stata spesso in disaccordo con la maggioranza del mio partito, ma non sono mai uscita. Ho perso i congressi locali, nazionali, sono una che ha fatto la vita di partito, che abbiamo fatto tutti, e mi sono sempre adeguata alla maggioranza in questo senso. Io voglio la libertà di poter discutere, voglio la libertà di poter votare e da candidata segretaria voglio restituire la libertà di poter votare agli iscritti che non votano mai niente, non votano i candidati in Parlamento, non votano per le scelte politiche. Questa cosa lo sa che viene spesso fuori attraverso le domande che arrivano qua ad immaginare. Io penso che sia uno dei motivi per cui abbiamo pochi iscritti. Uno deve spendere 25 euro di tessera per non decidere mai niente, perché poi è vero che è importante la discussione, ma come diceva il papà del Presidente della Repubblica, Bernardo Mattarella, visto che qui in studio stiamo vedendo il Presidente che sta parlando all'incontro di poste italiane, e Bernardo Mattarella diceva che la democrazia si completa se oltre alla partecipazione profonda c'è la decisione. Allora io voglio avere la libertà di decidere, quindi di votare. Si mettono ai voti le scelte del partito, se vado in minoranza io mi adeguo e difendo le scelte del partito, perché noi siamo una comunità, una comunità dialogante e anche una comunità decidente. Sul tema fiscale, nel documento congressuale, la mozione che peraltro presenta la stampa oggi alle tre, al circolo del testaccio, esatto. Io affronto il tema della fiscalità come un tema che non sia più l'unico per riequilibrare le disuguaglianze e ridistribuire la ricchezza. Cioè do proprio un'altra impostazione, il tema della patrimoniale è un tema su quale io sono molto laica, possiamo affrontare questa cosa, intanto affrontiamo altre disuguaglianze che ci sono nel nostro sistema fiscale, prima di tutto sia le disuguaglianze sulle imprese che le disuguaglianze sui lavoratori. Però io penso che noi dobbiamo ragionare per combattere le disuguaglianze su una riorganizzazione di tutta la società. Il documento congressuale parte dall'idea che ciascuna e ciascuno abbia il diritto alla felicità e che un partito di sinistra debba essere lo strumento per consentire a tutti di raggiungere la felicità. Solo le tasse, solo il fisco, peraltro a livello nazionale, dimostra che non è sufficiente come strumento di ridistribuzione della ricchezza. Perché la ricchezza è economica, la ricchezza è il tempo, la ricchezza è il sapere. Allora io credo che noi dobbiamo riorganizzare la società per ridistribuire la ricchezza e tutto quanto rappresenta la ricchezza. Quindi poi ci stanno dentro anche gli strumenti fiscali, ma gli strumenti fiscali sono un di cui, cioè quando io dico che dobbiamo ridurre l'orario di lavoro a parità di stipendio, è un modo per redistribuire ricchezza e libertà e tempo libero e anche opportunità di lavoro, perché è un altro modello di lavoro. E in questo caso le tasse contano poco, nel senso che non c'è, poi faccio anche il passaggio sulla fiscalità. Però io penso che noi dobbiamo metterci nella testa che tutto quello che abbiamo affrontato nel passato come idea, come strumento unico per fare uguaglianza, oggi con la società che è cambiata lo dobbiamo rimettere in discussione. Vi faccio un altro esempio, sono riduce dall'assemblea di Astra, che è l'associazione delle società del trasporto pubblico locale. Allora, il potenziamento dell'accessibilità alla mobilità e all'intermodalità delle persone è uno strumento di redistribuzione della ricchezza, perché ti riduce le spese, i costi di trasporto, ti dona del tempo e aiuta l'ambiente. Il fatto di fare un investimento puntuale sul trasporto pubblico locale, non solo sulle linee, sui mezzi, sui treni, sui pool, ma il fatto di farlo per l'accessibilità delle persone, che abbiano dei vantaggi anche economici per farlo, è un modo per redistribuire la ricchezza. Noi dobbiamo guardare la società in un modo nuovo. Sapete cos'è che mi annoia mortalmente di questo congresso? Il fatto che continuiamo a parlare delle cose che ci siamo detti negli ultimi 15 anni. Io voglio affrontare... Ma è un caso che questa venga? No che non è un caso, perché così si separano le truppe sulla base di posizionamenti vecchi. Io voglio che mi votiate per la novità che rappresento. Io lo so che non sono nuova, perché ho fatto la dirigente di partito, ho fatto tutto. È stato ministro insomma. Dal volantinaggio fino alla gestione del covid sui trasporti e sulle infrastrutture. In questa famiglia io ho fatto tutto. Mi sono candidato per restituire anche una parte della generosità che mi ha dato la famiglia del Partito Democratico, perché ho avuto tutto da voi. Ma è del tutto evidente che se affrontiamo il congresso in una maniera burocratica, anche tanto per dividerci le truppe, c'è qualcuno che parla del Jobs Act e qualcun altro che parla... Vabbè, non si va lontani, è chiaro. Non si va lontani, ma semplicemente perché il mondo è cambiato. Io non parlo del Jobs Act. Io dico che adesso ci vogliono dei nuovi diritti. Io dico che lo Statuto dei Lavoratori va riscritto tutto. Perché quando si è ragionato sia sul Jobs Act, ma ancora prima sul testo iniziale dello Statuto dei Lavoratori, non c'erano tutte queste partite. I giovani quando entravano al lavoro, entravano al massimo con la prendista... Ma non spaventa che tutto questo lo potrebbe fare la destra? Un pezzo di queste cose sì, ma non mi spaventa una cosa. Sì. Non mi spaventa una cosa. Il radicamento valoriale della destra è talmente diverso dal nostro, che se anche riuscisse a rispondere, mi sembra che non siano capaci perché finora hanno dimostrato un grandissimo dilettantismo, ma se anche riuscissero a rispondere puntualmente a qualcuno di questi bisogni, non sarebbero comunque capaci di farli con la stessa profondità e con la stessa equità. Perché loro nel loro DNA la giustizia sociale, l'equità, non ce l'hanno. Guardate, se c'è una cosa che mi faceva imbestialire due o tre anni fa, era leggere dei nostri dirigenti che avevano incominciato a teorizzare che la destra e la sinistra non esistevano più, che bisogna scegliere le persone e tutte queste robe qua. Non è vero, non è vero. La destra e la sinistra esistono, la destra è al governo, sta governando male, sta aumentando le disuguaglianze. Noi abbiamo sbagliato, siamo stati inadeguati, tutto quello che volete. Ma i nostri valori, l'idea dell'uguaglianza, l'idea del lavoro, la democrazia, ci vogliono rifilare il presidenzialismo con l'autonomia differenziata insieme. Adesso parliamo anche di quello. Insieme. La destra e la sinistra esistono e anche questo congresso, che serve anche per dimostrarlo un po' che esistono. Certo, va bene. Allora, io intanto ricordo, per chi si fosse messa all'ascolto di Radio Immagina, solo ora che nostra ospite quest'oggi nel filo diretto è la candidata alla segreteria Paola Di Michele. Ma sai che la gente mi riconosce per la voce e a volte non per la faccia? Per strada. Magari non mi riconosco. Ah ma a lei le fanno così? Sì, a me... Beh, non è male però. No, è una cosa carina, un po' l'accento, un po' questo tono di voce un po' rocco, un po' forse anche aggressivo. Allora, intanto volevo ricordare una cosa, cioè che domani, 31 gennaio, termina il tesseramento del 2022. Questa è una data importante da sottolineare per tornare anche al suo discorso. Per il 2023, anche se quelli del 2022 che avevano già rinnovato potranno rinnovare fino alla... Allora, termina il tesseramento per avere diritto a votare al congresso, perché poi il tesseramento andrà avanti. Però chi aveva fatto la tessera l'anno scorso potrà rinnovare fino al momento del voto nei circoli. Esattamente, perfetto. Allora, prima di andare avanti con le domande, ricordo il numero 342 14 26 902, e si è fatto un gran parlare del cambio di nome, onorevole De Micheli. Le leggo questo messaggio di Ferruccio D'Abiella. Si fa un gran parlare del cambio del nome, non penso che sia un problema. Personalmente, per quello che conta, sono affezionato al nome Partito Democratico. Comunque, da parte mia, buon congresso. Si chiama? Ferruccio. Quoto Ferruccio. Quota Ferruccio. Quoto Ferruccio. Uno, partito è una parola bellissima, dà l'idea di solidità, di presenza. Io ho riproposto il finanziamento pubblico ai partiti perché vorrei che ci fossero i circoli aperti. Quando una persona ha bisogno, viene lì, bussa e ci trova. Partito, solido, ci siamo dappertutti. Che cosa ha significato aver cancellato il finanziamento ai partiti? Una catastrofe. Mi pento tutti i giorni di aver votato quella legge. Tutti i giorni. In tutto e per tutto. C'è anche un tema di rapporto con coloro che legittimamente rappresentano interessi. C'è anche quello. C'è il tema della trasparenza. Ma c'è il tema della solidità, della presenza. C'è un appello dei tesorieri dei circoli che gira, al quale io ho aderito, che chiede tutta una serie di misure economico-finanziare per consentire al partito di vivere. Partito. Democratico. Vabbè. È la base della nostra Costituzione. È la ragione per la quale delle persone sono morte. Morte contro il fascismo. Contro l'autoritarismo. Per darci la democrazia. L'aggettivo democratico. È il più bello del mondo. E io ricordo il primo giorno che sono entrata in Parlamento e guardavo il Parlamento vuoto e dicevo ci sono persone che sono morte per consentire a una come me che viene dalla campagna di arrivare qui ed esercitare la delega in nome per conto del popolo italiano. E' l'aggettivo più bello che c'è. E poi io penso che il Partito Democratico debba cambiare dentro, non l'involucro. Quando io lavoro in aspettativa per una grande azienda di trasformazione agroalimentare che ha marchi, non faccio pubblicità, che ha marchi molto importanti in questo paese che molti di coloro che ci ascoltano comprano. Non è che se noi cambiamo il marchio perché abbiamo sbagliato un prodotto, il problema è mettere a posto il prodotto, è fare un prodotto che piaccia alle persone. Allora lo dico in maniera bieca, sono passata dall'altezza dei padri costituenti e dalla resistenza fino, se volete, alla prosaicità del marketing. Ma la verità è che noi dobbiamo cambiare quello che c'è dentro, primo, i nostri comportamenti. Loro là fuori se ne accorgono che noi parliamo di solidarietà e non siamo solidali tra di noi. Loro là fuori se ne accorgono che diciamo di misurarci sulle idee e invece ci misuriamo solo sugli assetti di potere. E loro sono gli elettori, quei 6 milioni e 600 mila elettori che non ci votano più e che ci avevano votato nel 2008. Noi dobbiamo cambiare le nostre politiche, ritorno sull'approccio innovativo ed originale, sforziamoci di guardare la società da un altro punto di vista, saliamo su un pullman, facciamo il giro con una lavoratrice precaria, andiamo a casa di qualcuno che campa con 600 euro al mese, stiamo lì un giorno, vediamo come fa la spesa, proviamo a guardarlo da quel punto di vista lì la società. L'ha fatto tutto questo, onorevole De Micheli? Certo, e tra l'altro per una parte della mia vita è successo anche a me, perché io sono stata disoccupata, io sono stata senza lavoro, ho dovuto zappare la terra per poter studiare, per potermi laureare, per mantenere la mia famiglia, perché sono rimasta senza padre giovane, e quindi sono tutte cose che non solo ho visto, perché frequento le persone, ma anche perché le ho vissute io. L'ha conosciuta, certo. Allora, andiamo avanti con le domande, le dicevo sono moltissime, al 342 14 26 902. Sono troppo non bene le risposte per la radio. No, no, vanno bene. Avvisateci se c'è qualcuno che si addormenta. Esatto, la riprendo io. Allora, mi dica, vuole parlare di imprese, di iscritti, di pace, di che cosa? Di tutto quello che vuoi. Va bene, perfetto. Allora, iniziamo con gli iscritti, che così chiudo la riforma del partito. Buongiorno, onorevole De Micheli, le scrivo. Da iscritta al partito è componente del coordinamento di un circolo di Milano. Le primarie sono alle porte e autorevoli esponenti del PD dichiarano il futuro abbandono del partito in caso di vittoria di alcuni candidati alla segreteria. Come si può pensare di confortare gli iscritti e di attirarne di nuovi se queste sono le premesse? Correnti e fazioni ad oltranza e lotti intestine che distolgono il partito dal suo ruolo di opposizione a questo governo? Grazie Marina Carabrese. In parte ha già risposto su questo. Marina, io credo che nessuno dei dirigenti lascia rapidi. Noi dobbiamo riuscire a fare un congresso perché tornino gli elettori. Questo congresso non deve essere il congresso dei gruppi dirigenti, deve essere il congresso degli iscritti e degli elettori, Marina. Questo è il vero rischio. Poi io sono più vicina ad alcuni candidati, più lontana ad altri. Non c'entra questo. Il punto vero del partito democratico è che noi dobbiamo provare a misurarci su quello che vogliamo che sia il partito nel paese che vorremmo costruire. E invece a queste due domande non c'è risposta per ora. Io sto provando a dare una risposta. Riorganizzazione del partito. Sulle questioni fondamentali, nel partito che vorrei guidare, gli iscritti voteranno con un voto che vale doppio, gli elettori con un voto che vale uno. Sulle linee politiche importanti, sulle politiche del lavoro, della transizione ambientale, sulle alleanze. Gli iscritti faranno proselitismo insieme ai dirigenti. 15 ore al mese dedicato ad andare noi nei luoghi di lavoro, negli ospedali, nelle scuole. 15 ore al mese. Qualche ora la dedichiamo alle politiche locali, dei comuni, poi le politiche regionali. E poi portiamo avanti le nostre idee nazionali. Il proselitismo. Io ci credo. È ancora possibile. L'ho fatto per vincere le elezioni a piacenza. Siamo onorevole De Micheli, che poi l'obiezione che vi ha le mosse è sempre la stessa. Ma perché non l'avete fatto in questi anni? Beh, insomma, io un po' di cose in questi anni le ho anche dette, però se non si è ascoltata. Poi io sono una donna, lo sapete che le donne dirigenti non le ascolta nessuno. Quando parliamo in direzione, tendenzialmente o chiacchierano o escono. Senta, domanda di Canio D'Amelio. Come mai un semplice cittadino non può partecipare per diventare il segretario del PD? Non è vero? No, dopo che è stato cambiato lo statuto a, non mi ricordo, a novembre forse, dove è stato tolto il vincolo dei sei mesi di iscrizione. Se si fosse iscritto entro la, diciamo così, raccolta delle firme, esatto, doveva iscriversi e poi raccogliere le firme. Il caso di una delle candidate, che non era iscritta al PD, anzi era capo di un altro movimento, si è iscritta dopo aver annunciato che si candidava alla segretaria del PD. C'è stata una modifica statutare perché prima, e io non l'ho votata, almeno dovevi essere iscritto per sei mesi. Non ha votato niente. No, ma questo percorso non mi è mai piaciuto, ma io l'ho detto a Letta prima di dirlo in direzione, l'ho detto al segretario, io sono persona corretta, io non è che faccio... Cioè, quando dico una cosa, prima la dico a chi di dovere, poi la dico nei luoghi preposti che è la direzione, e poi la dico anche fuori, perché secondo me si fa così, le battaglie politiche si fanno così. Assolutamente. Per le domande a Paola De Micheli, 342 14 26 902, parliamo di Ucraina. Il messaggio è di Alfredo Dottavi. Non ho sentito nessuno dei quattro candidati parlare di pace, per quanto mi riguarda è una precondizione per scegliere uno di loro. Beh, questo è un tema molto, molto importante, no? Diciamo che tutte le volte che c'è un'intervista, giustamente ci viene chiesto, perché questo è un tema enorme. Allora, io sono molto sincera, io credo che noi dobbiamo aiutare la resistenza ucraina. quando noi resistevamo all'invasore, siamo stati aiutati. Il punto vero però, politico e diplomatico, è un altro, che credo che il Partito Socialista Democratico Europeo, l'Europa, debba assumere un'iniziativa più seria per arrivare alla tregua, che è la precondizione della pace. E questo, secondo me, ha avuto anche una finestra, diciamo, in autunno, c'è stato un momento dove, secondo me, un'iniziativa diplomatica più forte per la pace, avrebbe avuto, forse, qualche sperabile esito. Nel senso che io ho notato, nel periodo tra ottobre e novembre, che è anche il momento nel quale hanno ricominciato a parlarsi i russi e i americani, tanto per intenderci. Sotto questo punto di vista, secondo me, sia l'Europa, che, diciamo così, solo a macchia di lopardo, la sinistra europea, è riuscita a fare, e invece, penso che l'iniziativa debba essere più forte. In tutto questo, però, guardate, noi siamo di fronte ad una guerra di aggressione. Cioè, nella diplomazia internazionale, nelle questioni di diritto internazionale, ci sono dei confini che sono invalicabili. E quindi, l'approccio sulla pace deve essere un approccio che non contempli la resa di un popolo, che resiste per difendere la democrazia nel cuore dell'Europa. Ok, parliamo di legge elettorale, onorevole De Micheli. Allora, questo è il messaggio di Renato Mancini, da Roma. Lei è disponibile a mettere tra le priorità di questa legislatura la modifica della legge che ci impedisce di esprimere preferenze per i candidati? Sono stanco di candidati nominati. Alle prossime elezioni potrei unirmi ai milioni di cittadini di sinistra che hanno scelto di astenersi. Onorevole De Micheli. No, no, io sono per la legge proporzionale da molto tempo. Sulla legge elettorale abbiamo avuto una scissione, quindi è un tema molto delicato, perché l'attuale articolo 1 uscì allora sul voto del Rosatello, non si è ricordato. Io sono per il proporzionale con le preferenze. In questi anni ho sempre cercato, sapendo che non c'erano leggi con le preferenze, di legittimare la mia presenza in Parlamento attraverso percorsi dove ho preso i voti. Ho fatto le primariette nei circoli la prima volta, ho fatto le primarie di Bersani, ricordate, 29 e 30 settembre 2012 c'era un freddo a Viacenza per votare e ho vinto quelle primarie. L'ultima volta, a giugno, mi sono candidata capolista a Piacenza per aiutare la vittoria del centro-sinistra a sconfiggere la destra che governava da cinque anni e ho preso le preferenze se sono stata la più votata della città. Io penso che, però, in questa legislatura la destra non sarà mai disponibile a cambiare la legge elettorale e quindi nella mozione propongo immediatamente di votare il regolamento per le primarie per i parlamentari, un regolamento che debba prevedere che il voto degli iscritti vale 2 e quello degli elettori vale 1 e che vengano candidati anche vincitori in province che in termini numerici potrebbero non avere diciamo così la rappresentanza perché c'è stato il taglio dei parlamentari. perché il nuovo regolamento deve prevedere anche la rappresentanza tra virgolette delle province più piccole perché altrimenti noi corriamo il rischio che si perdano la rappresentanza. Va bene, allora, messaggio di Daniele Rubagotti con la cronaca onorevole De Micheli la porto a parlare delle elezioni nel Lazio in Lombardia 12-13 ieri ero con Maiorino a Milano ecco, parliamo proprio di lui per qualche giorno scrive Daniele accantonate la campagna per la segreteria venite tutti e quattro in Lombardia Maiorino, il PD, noi cittadini abbiamo bisogno di voi in Lombardia ci giochiamo tutto dimostriamo al paese cosa c'è dentro il PD abbiamo bisogno di voi questo è un bel messaggio grazie e grazie che situazione ha trovato in Lombardia? sono stata a Milano ieri pomeriggi abbiamo fatto un'iniziativa sulle politiche familiari che è un tema sul quale il programma di Maiorino investe molto e anche il mio programma infatti c'erano molte sintonie anche e soprattutto sulla visione della società di domani rispetto alla genitorialità detto questo io sono stata a Bergamo sono stata a Brescia sono stata a Pavia tre città dove ho trovato una grandissima attenzione al di là del congresso ovviamente sul tema delle regionali città dove anche numericamente le nostre iniziative vanno molto bene adesso cercherò di prevedere passaggi anche in altre città ovviamente non disturbo Maiorino in persona nel senso che lui avrà il suo giro e laddove lui dovesse aver bisogno chiama e sa che arrivo questo è successo nel passato succede nel presente succederà in futuro ma io penso che in questa fase insomma noi ci dobbiamo omettere tutto per dimostrare che siamo già un partito all'altezza di governare questa regione guardate attenzione io trovo una disponibilità ad ascoltarci aggiuntiva se parliamo di sanità lo dico ai nostri lombardi che ci stanno ascoltando parlate di sanità e proponete alle persone incontrandole una a una il nostro modello sanitario perché le persone in Lombardia sono terrorizzate dallo scadimento della qualità della sanità pubblica è quel tema secondo lei che si giocherà molto io ho trovato tantissime persone che mi hanno chiesto questo per la Lombardia sì sì Lombardia chiaramente tantissime perché la Lombardia poi ci ricorda peraltro una regione dove il lavoro diciamo così ha ancora risponde c'è tutto il mondo del lavoro dell'impresa risponde ma dove il rischio è appunto quello che l'impoverimento del lavoro che è figlio del fatto che gli stipendi non sono aumentati e che l'inflazione morde determina l'arrivo di un mostro che si chiama povertà sanitaria e la povertà sanitaria è quella roba per la quale una famiglia non può comprare l'apparecchio ai denti a un bambino perché deve scegliersi comprargli la carne o l'apparecchio ai denti e anche in una società ricca come quella noi questo rischio lo corriamo per la perdita di valore d'acquisto dei salari quindi io credo che il grande investimento sulla sanità pubblica in un equilibrio rispetto alle eccellenze alcune eccellenze che vengono espresse dalla sanità privata a Lombarda un cambio di passo del disastro fatto nel combinato tra Fontana e Lamoratti sia assolutamente necessario e su questo guardato ho trovato una grande attenzione forse anche perché sono stata ministro durante il covid e quindi le persone mi ricordano con il volto collegato a scelte molto molto difficili che ne abbia fatto durante il covid però nei miei giri ho trovato tanto questo argomento allora siamo arrivati alle 13 e 32 minuti abbiamo ancora 3 minuti a disposizione allora questa è la domanda saluto che le rivolge Daniela mi piace Paola la tua chiarezza e competenza sei disponibile a condurre la segreteria a condizione che le discussioni interne si risolvano in un comunicato unico del nostro partito sì però non voglio che votino all'unanimità io non sopporto più l'unanimità allora io ho visto segretari del partito dimettersi dopo che avevano avuto dei voti all'unanimità sulla relazione in direzione sulla relazione in assemblea allora io voglio che ci diciamo le cose in faccia nei luoghi previsti io non voglio io vorrei essere una segretaria dove ho delle persone che vengono lì e mi dicono tutto quello che pensano con la franchezza con la quale la dico io Paola stai sbagliando Paola non hai capito niente Paola così così poi io cerco la sintesi se non la trovo si vota e succede quello che succede se la troviamo non c'è uno che sgarra ma io credo davvero che la discussione e la decisione ci faranno fare il salto di qualità anche nei rapporti interpersonali che spesso vengono lacerati da comportamenti ambigui dove davanti a tutti davanti alle telecamere dei nostri streaming si tira sulla mano e poi dopo fuori si fanno le agenzie o le riunioni per far saltare qualcuno o qualcosa abbiamo visto le dimissioni di Zingaretti abbiamo visto cosa è successo a Bersiani quando era il nostro segretario con l'unanimità quando abbiamo votato prima per Marini e poi per Prodi l'unanimità non funziona non è vera non è autentica io voglio un partito autentico perfetto è molto chiaro allora domanda questa non è una domanda semplice Silvia da Firenze se perdesse chi appoggerebbe nell'ultima tornata di primarie non perdo Silvia aiutami a vincere perfetto va bene ha risposto anche a questa e poi c'è un messaggio vice privitera cara Paola ti caratterizzi per l'impegno la determinazione e la concretezza conoscendo bene il partito democratico è valutato che è necessaria una profonda riorganizzazione sempre in particolare negli ultimi mesi in giro per l'Italia hai dato grande importanza all'ascolto tanto da definirti lo ricordava lei poco fa la sindacalista degli iscritti ti domanda allora in quale modo tu ritenga di valorizzare il contributo offerto dagli iscritti sia in termini di disponibilità sia sotto forma ai documenti tecnici e lettere a carattere costruttivo sovente chiusi in una cartella e archiviati senza alcun riscontro però ha già risposto ce ne sono altre c'è un altro documento dei segretari di circolo che ha raccolto 600 firme che circola sulle chat dove ci sono delle proposte che schiacciano orizzontalmente il partito a me piace moltissimo l'ho sottoscritto subito perché mi dà l'idea di un partito dove il responsabile della cultura della federazione di Cosenza ha immediatamente un rapporto diretto con colui o con lei che si occupa di cultura nella nostra segreteria nazionale ok un partito che peraltro adesso vogliamo far votare digitalmente senza avere pronta la piattaforma per poter votare in trasparenza ma con gli strumenti digitali invece noi possiamo mantenere un'organizzazione che non sia più verticistica dove decidono sempre in 5 ma che invece chi sta qui al Nazareno si avvicina sempre di più a chi sui territori fa le battaglie per la cultura per tutti i temi di cui abbiamo discusso oggi pomeriggio alle 3 al circolo di Testaccio presento la mia mozione dove troverete cose molto innovative non solo sul modello organizzativo del partito peraltro vi siete accorti che sono l'unica che parla di modello organizzativo del partito sai perché? perché questa è casa mia e io so che le case se non le rimetti a posto ogni tanto poi invecchiano e io non lo voglio un partito vecchio va bene e vedrete che ci saranno novità su sanità scuola lavoro lanceremo anche il nuovo reddito universale che è un'idea che ho costruito venendo nei circoli ascoltandovi e frequentando chi me le dice due parole sul reddito universale? il reddito universale è una misura che riorganizzerà sia alcune tipologie di ammortizzatori sociali che compenserà gli stipendi che non sono adeguati e che accompagnerà gli over 55 in maniera automatica se hanno perso il lavoro sarà uno strumento che libera tempo e libera risorse e che diciamo nella mozione non lo scrivo ma io avrei già anche immaginato come finanziarlo è un oltre il reddito di cittadinanza molto oltre il reddito di cittadinanza ma è anche un'evoluzione del nostro del nostro reddito di inclusione scusate tutte queste R va bene chiudo con il messaggio di Valentina da Mestre che dice nel caso non arrivi alle primarie aperte darai il sostegno e l'Ischlein insieme sarebbero una bella coppia ripeto io arrivo le primarie e le vinco quindi dammi una mano primarie 26 di febbraio lo ricordiamo onorevole De Micheli è stato un piacere ritrovare oggi entrando fra l'altro in studio qui a Radio Immagina si è impegnata a firmare una rubrica in futuro si volentieri mi piacerebbe la radio mi piacerebbe da matti no ha detto fatemi fare mi faccia fare l'opinionista in futuro nel senso che mi piacerebbe continuare a dialogare con i nostri iscritti io continuerò a girare l'Italia come una pazza in lungo e in largo e perché credo che la presenza fisica sia importante ma piacerebbe farlo anche attraverso la radio che secondo me è uno strumento potente e in questo periodo storico del Partito Democratico Radio Immagina è stata diciamo così un importante strumento per stare insieme e per darci ragioni per uscire dalle nostre case e parlare bene di noi con le elettrici e con gli elettori io la ringrazio a nome della redazione naturalmente di Radio Immagina in approfitto della sua presenza per ricordare rispetto ai fili diretti che abbiamo aperto quest'oggi con lei che giovedì sarà il nostro ospite Stefano Bonaccini venerdì sarà la volta di Elish Line e chiuderemo questo primo giro lunedì 6 febbraio con Gianni Cuperlo Onorevole De Micheli buon lavoro in bocca al lupo e a presto viva la lupa grazie a tutti noi ciao a tutti I